Questa mattina a Lario Fiere Erba, 823 ragazzi e ragazze hanno sostenuto i test organizzati dall'Università dell'Insubria per accedere ai corsi di medicina e chirurgia e per quello di odontoiatria e protesi dentaria. Altri 807 invece hanno affrontato le stesse prove a Malpensa. 1630 in totale i candidati provenienti dalle province di Como e Varese e da quelle limitrofe, come previsto dalle norme anticovidi. Infatti i candidati devono svolgere le prove d'ingresso nella sede più vicina a casa, indicando l'Ateneo di preferenza. Presenti nelle due sedi il rettore dell'Insubria Angelo Tagliabue e il direttore generale Marco Cavallotti. Le operazioni di accoglienza dei candidati si sono svolte dalle ore 8 con l'ingresso scaglionato. Alle 12 è iniziato il test. A disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti suddivisi tra cultura generale, ragionamento logica, biologia, chimica, fisica e matematica. È andato tutto bene. In tempo di Covid questa è la sintesi migliore per dire come l'attesissimo test si sia svolto senza imprevisti, nel rispetto delle norme e delle procedure dettate dalla pandemia, commentano gli organizzatori. Per i candidati che sceglieranno l'Università dell'Insubria, lo scorso anno alla prova erano in 586, i posti sono 150 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e 20 per quello in odontoiatria e protesi dentaria, oltre a un posto percorso riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero. L'elenco delle future matricole verrà poi pubblicato sul sito dell'Università il 29 settembre.